buongiorno a tutti sono mister camarium se non avete già fatto il canale e lasciate un like che mi serve la vostra partecipazione e come dire collaborazione partecipazione e collaborazione allora quest'anno da come vedete la testata giornalistica ho avuto poche possibilità di poter farmi un bel viaggio perché purtroppo lo stipendio è sempre lo stesso e i prezzi per andare in vacanza sono aumentati quindi ci siamo organizzati a livello familiare e diciamo che ci siamo fatti delle località suggerite un po qui un po la qualche informazione su facebook in pratica siamo quest'anno orientati su quelle che sono le recensioni il noto social facebook e quindi adesso vi faccio vedere un po come ci siamo rilassati cosa abbiamo fatto cosa ho fatto io nella mia famiglia quest'anno prima di passare alla prima tappa ci fermiamo a torte greco abbiamo trovato su facebook franco a una pizzeria tra te greco che fa prodotti tutti senza glutine quindi dalla pizza la pasta e quant'altro e fa anche dei menu fissi dopo tempi dopo che ci siamo riempiti un po il pancino cominciamo a fare il ragionamento di dove andare il ragionamento di dove andare A questo punto non ci resta Altra che partire e andare a Laghi Nabi Altra che partirei 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 Grazie E 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 Andiamo a farci una bella passeggiata in agriturismo Poi dopo devo tornare al lavoro quindi lascio questo video e a voi una buona giornata e vi raccomando lasciate un like E 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